Ciao ragazzi, oggi video, sempre un po' di riorganizzazione Vorrei fare il decluttering nella sezione medicina in camera Questo è il mio comodino, praticamente, di questo mobile, lo uso come comodino L'ho svuotato e adesso iniziamo a fare il lavoro Qui sopra c'è da sistemare ancora un po', ma vabbè, più o meno so dove sono le cose E questo è tutto l'ambaradam della mia roba Sembra che prendo molte medicine, ma no, non è vero Vabbè, partiamo Allora, qui c'è dentro dei nomi di farmaci che ho finito e che però mi devo ricordare se mi torna bisogno Quindi li metto qui Allora, che cosa tengo e che cosa no? Allora, questa è una crema recente che è sempre utile Ogni tanto, qualche volta all'anno, ne necessito Poi abbiamo l'occhi, questo ovviamente è ancora buono, lo mettiamo qui Poi pastiglie per la gola Per fortuna questo inverno l'ho passato bene, non mi sono ammalata Poi sempre lì vicino metto l'occhi task Che però, di solito prendo questo qui Comunque vabbè, lo metto qui Poi abbiamo un altro Occhi spray Qui nella sezione spray metto questo Che è quello che mi ha dato l'allergologo per l'allergia Perché ho la rinite, ho il naso completamente chiuso Solo che amaro, amaro Mi lascia una cosa in gola che mi dà un fastidio Quindi faccio fatica a usarlo Ma lo devo tenere lì Poi qui ho uno spray che mi ha dato mia mamma Di acqua di sirumione Sempre per il naso Ma niente di che, lo tengo da finire Poi qui cosa c'è? Fisolipid Questo invece è un integratore che ho finito di fare la tre mesi, penso E niente La clou è entrata E lo devo mettere da parte perché adesso non mi serve Quindi lo metto qui da una parte Poi tachipirine, queste immancabili Le tengo qui davanti Poi abbiamo il termometro Anche questo deve stare in prima linea Poi abbiamo queste Che sono sempre delle compresse Tipo integratori Che servono un po' anche per l'intestino Me le aveva date la ginecologa E queste le tengo Questa è la scatola dello spray Che sto utilizzando, come vi dicevo E la tengo anche per ricordarmi la data di scadenza E la metto qui Poi questo invece è un altro spray Che mi aveva dato come campioncino Però non mi trovo E non lo sto utilizzando Quindi anche se è chiuso Lo do ai miei se lo vogliono Se vi è in bisogno Poi pastiglie Queste erano sempre per l'allergia E scadono 2019 Boh, le tengo lì Poi vediamo Poi in fondo metto tutto per l'allergia Poi c'è pastiglie di glicerolo Che non uso Quindi via Qui c'è la confezione del nuovo spray Che mi ha dato oggi La farmacista Da provare Per pulire E sempre per liberare un po' il naso Questo qui è all'acqua marina L'ho già provato Oggi mi ci sto trovando bene Quindi penso che quando finirò I due campioncini che mi ha dato Infatti ce ne sono due Lo acquisterò in full size Perché ha veramente un'allergia tremenda Quindi questo è quello chiuso Lo metto qui Anzi qui Te lo vedo Ok Poi Un altro Sempre di quegli spray Per l'allergia Che non uso Quindi via Poi abbiamo Ah beh Qui ci sono i miei Kleenex E li risistemo Nel suo posto Ops Aspettate Che tolgo l'occhi Queste le stanno sempre lì Qui ci sta l'occhi Forse Forse Sì Poi abbiamo Beh queste sono salviettine Che utilizzo Le lascio qui dentro Qui ci sono Un farmaco Che oggi Mi hanno cambiato dosaggio Quindi questo Non lo Devo più usare Quindi anche questo via Poi abbiamo Del collirio Semplice Delicato Per rinfrescare un po' Gli occhi Quando sono secchi Questo lo tengo ovviamente Ed Scade 2018 Quindi perfetto Questo lo tengo qui davanti Poi abbiamo Un'altra scatola vuota Di un integratore Via T3 oil Che ho comprato Ma che poi Io pensavo di fare Un altro utilizzo Cioè che Boh Non lo so Alla fine non l'ho utilizzato E Non so se tenerlo o no Comunque mi sa che ormai Sarà anche scaduto Boh Adesso Lo metto da parte Poi vediamo se non è scaduto Questo è un altro Di quelli lì Che dicevo Che vanno eliminati Qui ci sono Delle bellissimi Clismi al miele Che mi sono serviti al mare A ben poco Perché quando vado In vacanza L'intestino si blocca Allora ho provato A prendere questi in farmacia Però Non mi hanno aiutato molto Questi li devo tenere Però È molto grande la confezione Devo farcela stare In qualche modo Adesso vedo Se non ci stanno Li metto poi di là Poi abbiamo Delle pillole Contracettive Che l'ho smesso Per cui via Queste sono Bustine Che mi hanno dato Per la cervicale Praticamente Sono finite No ce n'è una Ce n'è una E quindi Tengo la busta Ed elimino Questo Poi mi tengo Questa scritta Qui per ricordarmelo E me lo metto In questo qua Quindi dopo La metto da parte Poi oggi Mi è andato sempre In farmacia Da provare Per l'allergia Queste cosine Qui Allora Questo è per fare L'aerosol Sempre per liberare Un po' il naso Questo pure E questo È invece Un flaconcino Monodose Acqua di mare Comunque Questo penso Che non sia Per l'aerosol No No Questi sono Quelli che vanno Dati così Da portare Anche in borsetta Quindi perfetti Se tipo Vado in vacanza Li tengo chiusi E niente È stata molto gentile Che mi ha consigliato Questi prodotti Ora li proverò E poi Vedrò Come mi trovo Quindi tutti questi Vanno a finire Nel reparto Allergie Anzi Se riesco Ma Veramente Incredibile Allora Così Così E così Ok Ci siamo Questo lo metto così Perché non ci sta Questo qua Una bustina rimasta La lascio lì Questi Li provo di mettere qui Per adesso Poi vedremo Quando mi serve qualcosa Devo fare Il tetris Ma va bene E E poi niente Questo qui è quello Che sto usando adesso Lo lascio qui Sul comodino Quando mi serve Da fare anche più Di una volta al giorno E lo lascio qua E basta Quindi Ho eliminato Queste cose Qui Quindi beh Un bello sgombero L'ho fatto Sono contenta Ah È caduta una cosa Questa l'ho presa Fuori dall'erboristeria Che sono Dei campioncini Di creme viso Per le pelli Molto secche Da giorno e da notte È molto interessante Questa La metto qui Invece Nel comodino Sopra Così la vedo E niente Quindi Questo è stato La sistemazione Del reparto Medicinali Sono soddisfatta Bene Ah L'unica cosa Che è rimasta fuori È questo sciroppo Che mi ha dato il medico Che L'ho provato Solo una volta E è nuovo Però adesso È un bel boccione Lo lascio qui fuori Perché non so dove metterlo E niente Non c'è altro Quindi Niente Vi saluto Spero che il video Vi abbia tenuto compagnia Ci vediamo presto Ciao Ciao